Buonasera a tutti, questo è il primo video di Nicolene in mascherina Cioè la tengo qui perché in posizia sono stonato se con, senza Va bene, va bene così Che confusione, sarà perché riapriamo Ho la prenotazione, sì ma stammi lontano Mi hanno ordinato mezzo litro di vino Io glielo lancio, non so mica cretino Mi sento male, è pesante il respiro Tutto servizio, in mascherina giro Ciao siamo in sette, ma dove ci sediamo? Solo un momento, apro il piano cartesiano E ora come si fa? Bisogna sanifica E porta al metro anche te Che misuriamo insieme Se la distanza non c'è Si assemblano le persone Sale la prensione Ho bisogno di un gel E corri a disinfettare Anche la sala di là E quello a 37 Portalo fuori Perché se ha il virus dentro di sé Basta anche solo un ceffone Per la trasmissione Ed il coro lesa in te Ma dopo tutto Io ho già pronto un piano Con la canna da pesca Ti lancio il cibo in mano Prendilo al volo Che poi disinfettiamo Però sta attento Non abboccare all'amo Devo andare in bagno A fare un bisognino Alzarsi adesso Sarebbe un gran casino Non preoccuparti Ci siamo organizzati I pappagalli Ve li trovate ai lati E corri a disinfettare Anche il bancone del bar E cambia i guanti Perché un nuovo cliente C'è lì c'è un istante dove Io ne vorrei una porzione Con prosciutto e melone E una cena a dare E nel pallone si va Sarà perché riapriamo E stai lontano, va là Non c'è ancora il vaccino Se non sei a metro da me Poi dopo ci ammaliamo Che confusione Sarà perché riapriamo Ciao a tutti Ale